FUNICULI FUNICOLÀ Tutto si è trasformato in un incredibile flash mob. Diciamo che questo flash mob è per la canzone napoletana, perché Rian Brinus è un po' il tempio della canzone napoletana, oltre che essere il tempio del caffè. È un flash mob fatto per i napoletani, fatto per la canzone napoletana, fatto anche per divulgare nel mondo la napoletanità, che forse le canzoni napoletane sono le più cantate nel mondo. Le più cantate nel mondo, ma quanto è importante portare avanti tramite questi eventi la canzone napoletana? È importantissimo, perché Napoli e la canzone napoletana sono conosciute in tutto il mondo. Basti pensare che la canzone FUNICULI FUNICULÀ, anche se fu scritta al mattino, fu eseguita per la prima volta qui nelle storiche sale del caffè Gambrinus. E quando i maestri la incominciarono a intonare il ritornello FUNICULI FUNICULÀ, tutti gli avventori, incuriositi, si avvicinarono al pianoforte e chiesero che canzone è.